Nice a 100 per gara 4 dei play out che però dura solo 5 minuti. Quelli che servono a 100 per andare subito in vantaggio e arrivare alla fine del primo quarto sul 29 a 7. Il secondo periodo non è dissimile dal primo e Legnano a un certo punto si trova anche sul 53 a 13 che viene poi ritoccato sul 59 a 19 al suono della seconda sirena. Secondo tempo in cui Lazco prova a reagire e in parte ci riesce anche e fa paura a 100. Infatti dopo il terzo quarto finito sul 66 a 48 Legnano arriva anche sul meno 14 quando mancano ancora 6 minuti da giocare. Ma un paio di giocate di 100 e l'inizio disastroso non permettono ai Knights un recupero che comunque avrebbe avuto del miracoloso. Mercoledì gara 5 che non ammette repliche e che condannerà la B Legnano o 100. Solo 40 minuti per saperlo mercoledì sera al Palaborsani di Castellanza alle ore 20 e 30. Grazie a tutti. Grazie ecco tu! Grazie a te!